Dopo due anni di fermo forzato a causa dell'emergenza sanitaria, da venerdì 29 aprile a domenica primo maggio torna Marina in Fiore. La mostra a mercato dedicata al giardinaggio, all'artigianato che segna il benvenuto all'estate di Petrasanta in un tripudio di colori e di profumi. L'evento è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica della Versilia per conto della Comune di Petrasanta in virtù del bando di affidamento biennale all'ente consortile, datato 2021. La fiera si svilupperà nel circuito tradizionale tra strade e piazze di Tonfano, dalle 9 alle 20. Ci riprendiamo un altro pezzo di normalità, commenta l'assessore agli eventi Francesca a Bresciani. C'è tanto entusiasmo e anche un po' di impazienza. Tutti gli operatori del settore florovivaistico sono invitati a partecipare. Non sarà un semplice evento, ma una grande festa. Piante, fiori e arredi da giardino, attrezzi per curare il proprio angolo verde e poi ancora libri e pubblicazioni a tema. Insomma, una serie di iniziative collaterali che arricchiscono l'atteso appuntamento. Marina in Fiore torna protagonista il 29 aprile.